Banca Tema chiude alcune filiali nella Retino e ne accorpa altre. La notizia è trapelata prima del CDA in programma domani lunedì 13 giugno. Secondo quanto si apprende la ristrutturazione farebbe parte di un piano già concordato al momento dell'ultima fusione che ha dato vita all'attuale conformazione della banca che conta 20.000 soci e 74.000 clienti in tre regioni Toscana, Umbria e Lazio 53 filiali in tutto. Ad Arezzo dovrebbe restare una sola filiale in centro, l'altra dovrebbe essere traslata in via Calamandrei, Foiano dovrebbe essere invece accorpata con Bettolle. Mentre rischiano quasi sicuramente la chiusura le filiali di Pieve al Toppo, Terontola, San Casciano, Cetone e Montallese nel Senese. Il CDA di lunedì prenderà in esame il progetto, poi i vertici contatteranno i sindacati chiamati ad esprimersi sulla ristrutturazione che non dovrebbe comportare alcun problema per i dipendenti complessivamente nel gruppo 364. L'impatto sul personale dovrebbe dunque essere zero anche perché si parla solo di aggiustamenti. L'operazione di chiusura delle filiali a rischio dovrebbe avvenire entro il 24 novembre ma il condizionale resta d'obbligo.